Amici un bel ritrovato a Interauto, le troviamo dopo alcuni mesi, ma soprattutto un bel ritrovato ad Arianna. Ciao Arianna. Ciao Franco, ben trovato a te. Grazie per la vostra ospitalità, so che hai un sacco di offerte pazzesche alle quali non possiamo rinunciare. E partiamo da una city car che è cresciuta nel corso degli anni, no? Era piccolina, così particolare, adesso è diventata una signora vettura in tanti allestimenti e tante versioni. Mi dici che offerte avete da Interauto? Assolutamente sì. Era partita un pochettino, come dico io, che era un pochettino un ovetto e adesso è diventata una 5 porti effettiva. La versione che stiamo vedendo qua è l'ultimo allestimento che è uscito, ovvero l'allestimento Active, che ha due centimetri in più di sospensione, una carrozzeria molto più robusta bombata, passaruota bombata, barre sul tetto longitudinali color argento e molto più accessoriata, limitatore di velocità, infatti troviamo mantenimento della strada, sensori di parcheggio, aiuto in salita, start and stop, insomma, chi più ne ha... E' veramente super completa. E allora ti chiedo di distinguerci, poi ci parli dell'offerta economica e commerciale che è veramente strepitosa, rispetto invece alla versione, diciamo, l'entry level del modello che ha. Esatto. Allora, la versione Ultimate, che è la versione invece base, anche questa è molto accessoriata, perché troviamo il computerino di bordo, col sistema Sync.3, che ci permette la connettività con il nostro smartphone grazie al sistema Android Auto e Apple CarPlay e ci permette di effettuare le chiamate al volante senza distrarci dalla guida, mantiene la pressione dei pneumatici controllata e permette appunto, insomma, di tenere sempre controllata la nostra vettura con anche accessori, come ripetevo prima, limitatore di velocità, mantenimento della strada, aiuto in salita. Senti, a livello di motorizzazioni, Ka, come si presenta? Allora, per la gamma benzina abbiamo una cilindrata di 1.2 con 85 cavalli, mentre per la gamma diesel 1.5 di cilindrata a 95 cavalli. Adesso vediamo invece la Ville Pecunia, no? Pecunia non OLED, però insomma, se c'è meno Pecunia da tirar fuori, noi siamo tutti molto più felici. Esattamente, perché per questo mese, da noi in Ford Interauto abbiamo degli extra bonus, ovvero abbiamo un bonus sulla Ka pari a 2.050 euro, ovvero partiamo con un prezzo di partenza sulle pronte consegne di 10.550 euro, questo grazie al finanziamento, infatti arriviamo addirittura a un finanziamento pari a 99 euro mensile, che non so a te, ma io 99 euro li spendo così. Siccome io li spendo, guarda, di caffè li spendo tre volte tanti al mese. Io passo le schifezze al supermercato e li spendo così. Cioè 99 euro al mese? Esatto. E me la porto a casa? Esattamente, quindi non mangiamo le schifezze, risparmiamo, e se ci serve la macchina le troviamo. Potete anche mangiare le schifezze e comprarvi lo stesso da casa. E in più trovare, sì, esatto. Per cui hai detto da 10.000? 10.550 euro il prezzo di partenza, 2.050 euro la scontistica, 99 euro la rata mensile. Ok, chiaramente c'è da darsi una sveglia ragazzi, non fate come Pasquale che dorme sugli allori, che poi arriva, ma come non ce ne sono più? L'avete promozionata ieri? Non ce ne sono tante, per cui datevi una grande mossa. Esattamente, e in più specifichiamo un'altra cosa perché Ford Interauto questo mese si è voluta ancora di più superare, perché mettiamo anche a disposizione, allora, questo mese, scusate, abbiamo degli Open Weekend e per chi è interessato appunto e compra qualsiasi tipo di modello delle nostre Ford potrà inoltre usufruire del 20% sui tagliandi e in più avere una macchina gratuita per la manutenzione ordinaria. Quando si porta la vettura a fare il tagliando, mi date la vettura gratuita di cortesia, gratuitamente? Esattamente, solo per chi acquista per questo mese. durante gli Open Weekend. Va bene, non sono degli occhi stupendi, è anche bravissima. Allora, dalla can, andiamo alla fiesta? Andiamo alla fiesta. E vai, Pascal, vai, dai, non distrarti, vai, su, andiamo, vai, dai. Guarda che bel primo piano che sta facendo Pasquale, eh? Assolutamente. Su questa fiesta. Questa qua è la fiesta Titanium, l'allestimento che troviamo più elegante, perché come possiamo vedere ha i bordi cromati, i cerchi in lega da 16, 10 razze, e i vetri oscurati di serie. È il secondo nostro allestimento della fiesta. Prima troviamo l'allestimento Plus, che è l'allestimento base. Subito dopo questo allestimento Titanium troviamo l'allestimento ST-Line, che è l'allestimento quello più sportivo, con spoilerino, mini-gonne, cerchi in lega da 18. Insomma, un allestimento un po' più sportivo, per finire poi nell'allestimento Vignale, che è l'allestimento quello più lossuoso, che ha tutti gli interni in pelle e molti più accessori sempre di serie. Ma la promozione della fiesta, assolutamente, ed è anche superiore rispetto a quella della K, perché andiamo sempre a migliorare. Ovvero, qua addirittura abbiamo una scontistica pari a 4.900 euro. Wow. Esatto. Quindi abbiamo un prezzo di partenza della fiesta, anche qua, quelli in pronta consegna, quindi mi raccomando, sono limitate, di 11.350 euro. Per una vettura praticamente simile a questa? Assolutamente, sì. Insomma, un prezzo fantastico. Assolutamente, perché non finisce qua, la fiesta si supera ancora di più, perché oltre 4.900 euro di scontistica, grazie al finanziamento e alla rottamazione, abbiamo in più un extra bonus di 400 euro per tutti coloro che fossero interessati alla motorizzazione 1.100 di cilindrata, 85 cavalli, ovvero benzina. Benzina, che è un motore fantastico, silenzioso, consuma pochissimo e sicuramente è uno di quei motori in grado di darvi grandi soddisfazioni alla guida di questa fiesta. Sì, e in più ricordiamo anche che è idoneo per i neopatentati. Altra cosa, assolutamente. Che è un'altra cosa molto importante. A quel punto può diventare veramente una macchina che all'interno della famiglia, come seconda vettura, ha varie declinazioni, per cui la macchina magari per la mamma e che deve dividere la col figlio, che prende la patente da poco. Assolutamente, sì. Tra l'altro, quello che vi dico, avendola guidata, è una vettura che ha delle doti dinamiche veramente straordinarie. non sarebbe altrimenti una delle vetture che nel marchio Ford ha venduto così tanto. È credo la vettura che ha venduto di più di tutte. Una delle più, sì. Per cui è un mezzo da provare. Credo che sia una cosa che si possa fare, no? Quella di fare il test drive del veicolo qui in Interauto. Assolutamente. Mettiamo a disposizione anche la prova su strada, tranquillamente. Bellissimo. Allora ti chiedo di ripetere le cifre, perché sono veramente importanti. 11.350 euro il prezzo di partenza, 4.900 euro la nostra scontistica, grazie al finanziamento e alla rotamazione, e in più un ulteriore extra bonus di 400 euro. Per la gamma benzina, motorizzazione 1.100 di cilindrato, 85 cavalli. Fantastico. Hai capito che tu, Pascal? Sì, ha detto di sì. Assolutamente. Se hai capito Pasquale, siamo a posto. Esatto. Passiamo a Cuga? Passiamo a Cuga. Allora, non so se Pascal sta già inquadrando i cerchi, per cui ti chiedo subito la dimensione dei cerchi, perché per noi una donna che si intende della misura dei cerchi è una meraviglia. È veramente la luce per i nostri occhi e le nostre orecchie. Sono cerchi in lega da 18, perché questo qua che troviamo è l'allestimento ST-Line, che è l'allestimento appunto più sportivo. Qui parliamo di Cuga, giusto? Sì, esatto. Cuga ST-Line. Ti troviamo anche le minigonne, i spolerini, le barri longitudinali sul tetto di colore nero. Insomma, è l'allestimento un pochettino più per voi maschietti. Anche se le donne, anche le donne, in cominciano a puntare anche sullo sportivo. Perché il look e questo abbinamento poi è veramente straordinario. Qui mi parli di prezzi, agevolazioni, anche per Cuga sulle vetture in pronta consegna. Assolutamente. Per cui bisogna veramente darsi una mossa, se vi interessa, perché le vetture sono in esaurimento. Esattamente, soprattutto questa promozione vale per questo mese di ottobre, perché appunto queste scontistiche sono appunto degli extra sconti che Ford Interauto ha messo a disposizione solo per questo mese. Per la Cuga addirittura, aumentiamo ancora di più, abbiamo una scontistica di 7.550 euro. Infatti partiamo con un prezzo di partenza pari a 19.950 euro, senza bisogno di rottomazione o finanziamento. Non c'è nessun vincolo. È una scontistica che a prescindere noi mettiamo a disposizione. Perfetto. Per cui rimangono valide anche quelle opzioni relative ai tagliandi con la vettura. Esattamente, quella lì è una promozione che vale su tutti i nostri modelli, ovvero per questo mese di ottobre, per gli open weekend, per qualsiasi modello in pronta consegna a voi siate interessati, mettiamo a disposizione degli extra sconti riferiti al tagliando 20% e una macchina di cortesia gratuita per la manutenzione ordinaria. Perfetto, venite qua, lasciate la vostra vettura, fanno il tagliando, vi lasciano una vettura di cortesia nella quale non dovete pagare nulla, solo farvi la benzina e basta. Esattamente, assolutamente. Arianna, fantastico, sei stata super chiara, super preparata, per cui ragazzi guardatela, il nome in sovrimpressione è quello che dovete fare, digitare, whatsapp o chiamare per informazioni. Ribadiamo il concetto, è un'operazione valida su un numero limitato di vetture, per cui qualora siete interessati, Kuga, Ka e Fiesta vi stanno aspettando, però chiamatela, velocemente, chiamatela, ok? È qui il numero. Ciao Arianna, ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Salutiamo anche Pasquale o no? No. Ma sì dai, perché no? Ma no, 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 è antipatico, andiamo. Ciao Pasquale. Ciao. 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 Ciao.